Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Andrea Biagioni. Traffico regolare su tutta la rete stradale e autostradale della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata a causa dei lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Si ricorda che fino all'8 dicembre a causa di una frana avvenuta al km 79-865 della Fipili rimarrà chiuso per lavori il tratto al km 0 della Provinciale 224 allo svincolo con Livorno. A causa di movimenti franosi sulla statale 12 della Betone del Brennero chiuso il tratto in entrambe le direzioni località Borgo a Muzzano. Sulla statale 64 Porrettana chiuso invece in entrambe le direzioni il tratto tra Pavana e Ponte della Venturina in prossimità del confine con l'Emilia. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!